In un'epoca in cui la luce della fede rischiarava appena le tenebre della mondanità, una donna di nome Angela da Foligno camminava lungo un sentiero fatto di eccessi e superficialità. Ma dietro il velo della vita mondana si celava una storia straordinaria di trasformazione e illuminazione, una storia che avrebbe ispirato generazioni di credenti in cerca della verità spirituale. Un viaggio che dall'oscurità dell'indifferenza la condusse a un'intima comunione con Dio, attraverso visioni estatiche e profonde meditazioni, fino a essere celebrata come santa e maestra dei teologi. Questa è la storia affascinante di Santa Angela da Foligno, un racconto di rinascita spirituale e di un profondo legame con il Divino che ha attraversato i secoli, portando la sua luce nel cuore di chiunque cerchi la via della fede e della trasformazione interiore. Angela da Foligno proveniva da una famiglia agiata e aveva condotto una giovinezza immersa nel lusso e nell'eccesso. Cresciuta in un ambiente dove la ricchezza e i piaceri terreni erano all'ordine del giorno, Angela abbracciò una vita di superficialità e indulgenza. Le feste sfarzose, i piaceri mondani e la ricerca incessante di soddisfazioni effimere caratterizzavano la sua esistenza. La sua condotta, lontana dagli insegnamenti spirituali, la portò a un punto di rottura, in cui la consapevolezza di un vuoto interiore divenne insostenibile. La vita di Angela subì un'inversione radicale quando, toccata da una profonda crisi interiore, si aprì a una ricerca di senso più profondo. Un evento o una serie di circostanze scossero le fondamenta della sua esistenza, spingendola a rivolgersi alla fede e alla spiritualità per trovare risposte alle domande che le tormentavano l'anima. Descrivi questo momento cruciale, in cui Angela ha incontrato una nuova dimensione della vita, abbandonando il percorso di vacuità per intraprendere una strada di ricerca interiore. Dopo la conversione, Angela trovò un nuovo significato nell'adesione all'ordine francescano. Questa scelta non fu solo un cambio di appartenenza religiosa, ma una trasformazione profonda del suo essere. La sua vita divenne un esempio vivente di umiltà, penitenza e imitazione di Cristo, seguendo gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi. L'adesione all'ordine francescano non fu solo una mera formalità, ma plasmò ogni aspetto della sua esistenza, portandola a un livello più elevato di ricerca spirituale e impegno verso una vita di devozione e santità. Dopo l'adesione all'ordine francescano, Angela da Foligno si immerse in un mondo di profonde visioni e esperienze mistiche. Le sue visioni estatiche, spesso caratterizzate da momenti di estasi e illuminazione interiore, rappresentavano il cuore pulsante della sua relazione con il divino. Attraverso queste visioni, Angela si sentiva in stretta comunione con Dio, sperimentando una presenza divina che permeava ogni aspetto della sua esistenza. Le sue meditazioni approfondite sulla passione di Cristo e sull'Eucaristia diventarono il fulcro della sua pratica spirituale, conducendola verso una comprensione più profonda della fede e della relazione tra l'uomo e il divino. Frate Arnaldo, consigliere spirituale e confidente di Angela, giocò un ruolo cruciale nella redazione del memoriale delle sue visioni. Questo testo, raccolto e redatto da Frate Arnaldo, rappresenta una testimonianza preziosa delle esperienze spirituali di Angela. Attraverso la guida di Frate Arnaldo, Angela fu in grado di esplorare e comunicare in modo più chiaro e strutturato le profonde esperienze mistiche che aveva vissuto. Il memoriale divenne quindi una fonte di ispirazione e di comprensione per coloro che desideravano comprendere il percorso spirituale di Angela e trarne insegnamenti per le proprie vite. L'impatto duraturo di Angela da Foligno si estese ben oltre la sua vita terrena. Nonostante fosse stata inizialmente ignorata e priva di una fama di santità immediata alla sua morte, la sua eredità spirituale crebbe nel corso dei secoli. Nel 1693 la Chiesa confermò il suo culto e nel 2013 fu canonizzata da Papa Francesco. Il riconoscimento ufficiale della sua santità sottolinea l'importanza della sua vita e delle sue esperienze spirituali, conferendole il titolo di Maestra dei Teologi. Il suo contributo alla comprensione della fede e della ricerca spirituale rimane un faro per coloro che cercano la verità spirituale e la trasformazione interiore. Il santuario di Santa Angela da Foligno, situato a Foligno, è diventato un centro di pellegrinaggio e un luogo di venerazione per i fedeli. La tomba di Angela è diventata un luogo di preghiera e di contemplazione per coloro che cercano ispirazione spirituale. Il santuario rappresenta un punto di incontro per coloro che desiderano seguire l'esempio di Angela nella loro ricerca di una connessione più profonda con la fede e con Dio. Grazie di cuore!